Spesso rimpiango di essere venuto personalmente nel mondo di quaggiù. Non che io provi odio per il mondo, anzi amo il mondo, il bel mondo. Ma che mai sarò venuto a fare su questa terra così terrestre, terranea, terricola, così terrosa? Avrò dei doveri da compiere? Sono venuto per assolvere una missione o per una commissione? Mi hanno mandato per divertirmi, per distrarmi un pochino, per dimenticare le miserie di un al di là di cui non mi ricordo più. Non sarò mica importuno, ma credendo di far bene, poco dopo essere arrivato quaggiù, mi misi a suonare qualche motivo musicale. Tutti i miei fassati...